Allora ragazzi, è ufficiale che Correa è un nuovo giocatore dell'Inter Domani sarà a Milano per fare le visite mediche con l'Inter E sarà un nuovo attaccante dell'Inter, Joaquin Correa Mi piace questo nome Che dire, secondo me è un colpaccio da parte dell'Inter Perché Correa riabbraccerà Inzaghi Perché Correa ovviamente viene dalla Lazio Dove fin l'anno scorso Inzaghi è allenatore della Lazio E conosce benissimo Correa e Correa conosce benissimo Inzaghi Quindi da parte dell'Inter è anche un colpaccio sotto questo punto di vista Perché è stato molto tempo Inzaghi con la Lazio Quindi conoscendo Correa non ha bisogno di chissà quanto tempo per ambientarsi con il suo allenatore Pomettici comunque ha giocato in Serie A Quindi sa tutti i meccanismi Correa è un grande colpaccio da parte dell'Inter Perché secondo me, a me è sempre piaciuto tantissimo Ho sempre detto che secondo me la Lazio non ha creduto tantissimo in lui Io ho sempre detto che secondo me è stato troppo sottovalutato nella Lazio Che secondo me avrebbe dovuto avere più spazio Cioè ha 27 anni, non è troppo grande, non è troppo piccolo Quindi ha avuto secondo me non il giusto spazio nella Lazio Perché secondo me è un giocatore forte Correa, non ci sembra Correa ma Correa tanto Secondo me Correa, 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 Correa Ho detto in breve Allora, ovviamente va a sostituire un attaccante Quindi con Lautaro, Dzeko e Correa Penso che si chiuda qui il reparto offensivo dell'Inter Sostituendo il partente Lukaku e un Sanchez ormai Come si dice, serve per il brodo Sanchez Ormai è finito E quindi l'Inter completa così secondo me quest'anno Il reparto offensivo Allora, qual è la differenza tra Lukaku, Lautaro e Dzeko Correa e Dzeko Correa e Dzeko Correa Oddio non mi viene a mente il nome Dzeko Correa e... Ovviamente c'è la differenza perché Dzeko Correa e Lautaro Non mi veniva in mente il nome di Lautaro Martinez E quindi la differenza è che qui sono 3 invece di 2 Allora, prendendo Correa all'Inter Allunga la sua rosa Perché ha tolto un Sanchez Che ormai era diventato un fantasma inutile Però ha tolto un Lukaku Che è sinceramente molto forte E ovviamente, sinceramente Correa e Dzeko Secondo me anche insieme Non riescono a... Comunque a soccombere L'assenza di Lukaku Perché Lukaku è oltre... Non per l'età 29 anni Completo, alto, grosso fisicamente Bravissimo e tecnicamente Per buttarlo giù sulleva la mano del Dio E tecnicamente molto forte Secondo me non sostituiscono Lukaku Correa e Dzeko insieme Però la differenza qual è? Che adesso l'Inter c'è una rosa più lunga C'ha 3 C'è Dzeko, Correa e Lautaro Prima aveva solo Lukaku e Lautaro Che semmai uno dei due non stesse bene C'era un Sanchez veramente brutto Quindi volendo l'Inter Non è che si è rinforzato Perché non è che l'Inter si è rinforzato Però comunque l'Inter si è aggiustato parecchio Perché sinceramente dopo l'assenza di Lukaku Pensavo molto peggio l'Inter Pensavo che non compresse quasi nessuno E sostituisse Lukaku con una promessa Invece andò a prendere Dzeko e Correa Per quanto Dzeko è grande d'età Parliamoci chiaro Stai in discesi e tutto quanto Però è ancora forte Correa è giovane comunque 27 anni C'è comunque Lautaro ancora in gara E c'è un Cialanoglu Che se continua così Ha fatto poco al Milan Invece all'Inter Se continua così Fai grandi cose Quindi secondo me l'Inter è andato Non a rinforzarsi Ma a rimpiazzare bene Lukaku Non sarà la stessa cosa Però uno dice la quantità Non è la qualità Perché adesso per esempio Aggiunto più giocatori nella rosa Ma non è la quantità Però sinceramente Con questo attacco È simile un po' a quello di prima Anche se ovviamente Lukaku Da solo faceva reparto Vedremo ragazzi Noi vedremo soprattutto La bravura di Inzaghi Perché l'allenatore Anche fa differenze Avremoci chiaro Quindi oltre ai giocatori Vedremo che cosa farà Secondo me Correa farà bene E farà tanti gol E farà una grandissima prestazione Con Inzaghi Con Conosce E con l'Inter Vi ripeto Secondo me l'Inter Quest'anno arriva o secondo o terzo E forse anche terzo o secondo E va in Champions Per lo scudetto non lo so Bisogna vedere la Juve Alla lunga che fa La Roma Lazio Napoli Vediamo un po' Un po' difficile Adesso dire De pronostici Ci vediamo nel prossimo video Ragazzi Forza Napoli sempre Grazie a tutti Grazie a tutti